L'otus birth significa nascere senza recidere il cordone ombelicale, ossia lasciare che il bambino e placenta restino insieme fino al distacco naturale della placenta, ossia al distacco del cordone ombelicale dall'ombelico del bambino, il che avviene in genere in media 3 o 4 giorni dopo la nascita del bimbo. Grazie.